Le più moderne teorie che prevedono il fatto che tendenzialmente la gente non va su un sito ma va a cercare gli argomenti quindi diventa molto importante farsi indicizzare dai motori di ricerca cosa che può piacerci o meno però di fatto ormai è così che si va sul web quindi la speranza è che riuscendo a farsi indicizzare si arrivi poi comunque a portare lettori che si affezionano anche al sito vero e proprio insomma però sicuramente questa è una cosa cambiata rispetto a qualche anno fa in cui appunto si cercava di fare dei siti pensando che appunto la gente e allora forse davvero era così andassero a vedere il sito perché c'era quel nome adesso persino un sito come repubblica.it che è il più grande in Italia non funziona solo così nel senso che c'è una parte naturalmente di lettori affezionatissimi che tutte le mattine accende il suo computer su repubblica.it ma c'è anche tutta una parte di traffico di lettori che vagano per il web e che trovano una notizia interessante entrano nel mondo di repubblica.it e da lì poi vedono altre notizie e restano poi su repubblica.it quindi i nuovi siti funzionano in questo modo anche il sito di Excel quindi tra breve dovrebbe iniziare a funzionare così e sarà un sito comunque semplice, essenziale e proprio per questo più elegante seguendo appunto proprio quella che vi dicevo è l'ultima incarnazione del giornale quindi un'incarnazione più elegante e anche più adulta diciamo perché come vi raccontavo il giornale ha iniziato raffrontandosi a un target diciamo di un pubblico che poteva andare dai 15 ai 30 anni con poche punte al di là oggi come oggi il target centrale di Excel invece è 25-35 anni questo sanzionato anche proprio sapete che le pagine possono vedere in background chi sono i suoi lettori su Facebook e quindi questo è quello che risulta da ciò l'altra cosa interessante di Excel è che questo fin dall'inizio è un giornale che a differenza della maggior parte dei giornali non è né un maschile né un femminile Excel viene letto veramente quasi a 50-50 da uomini e donne e questa è una cosa che ci rende molto orgogliosi perché appunto siamo felici di poter arrivare a entrambi i pubblici arrivando alla cosa più importante vi dicevo prima quello che è stato sicuramente uno dei motori del successo di Excel negli ultimi anni è il rapporto che ha saputo costruire con i suoi utenti su Facebook qui vi faccio vedere appunto alle mie spalle questa ricerca di blog meter in cui come vedete la pagina di Facebook di Excel è in assoluto la prima tra i mensili la vedete in alto nella cosa mentre è anche tra i mensili l'unico engagers ovvero l'unico che riesce a parlare con i propri lettori portandoli a un'interazione assidua e costante con la pagina mentre come vedete anche riviste che dovrebbero da un certo punto di vista essere più titolate a questo come wired sono molto molto lontani dal risultato ottenuto da Excel quindi siamo particolarmente contenti di questo e se poi guardate questi mi sembra sono i settimanali anche qui se vi ricordate qual era il posizionamento di Excel vi rendete conto che comunque anche rispetto ai settimanali ha un posizionamento parlo sempre di engagement quindi di capacità di relazione molto più forte anche della maggior parte dei settimanali e persino appunto dei quotidiani dove come vedete Excel è sempre nella parte privilegiata degli engagers mentre persino il quotidiano madre non è un engager però è un leader che è quello che vi dicevo prima nel senso appunto è un leader perché ha un marchio repubblica talmente forte talmente potente che comunque ha un livello di interazioni forte che però secondo l'analisi di blog meter è dato più dal suo essere marchio che dal reale lavoro di interazione che fa adesso anche il nostro quotidiano madre si sta rendendo conto dell'importanza di facebook questo avveniva questa è una ricerca di un po' di mesi fa anzi di quasi un anno fa credo non è stata realizzata una più recente al momento aspettiamo che esca la nuova sicuramente adesso come adesso Repubblica ha iniziato da un po' di mesi a fare un lavoro molto più forte su social network anche qui devo dire noi di Excel siamo stati un po' dei pionieri nel senso non dico che ci prendessero in giro ma quasi nel senso che ancora una volta cose come facebook sembravano cose da ragazzini una perdita di tempo eccetera eccetera in realtà abbiamo dimostrato e adesso tutti lo stanno capendo che avere una pagina facebook e soprattutto avere una pagina facebook viva è una cosa fondamentale per lo sviluppo dei prodotti editoriali cosa vuol dire una pagina facebook viva? una pagina facebook viva appunto è una pagina che fa engagement cioè che riesce a interessare e a far interagire con se stessa i suoi lettori tutti hanno una pagina facebook ci sono anche tutta una serie di teorie su come dovrebbe funzionare una pagina facebook bene io vi dico che il caso di Excel che appunto ha ottenuto questi risultati Excel non segue nessuna di queste regole lo dico con un certo orgoglio nel senso che lo dico da milanese quindi senza tema di essere considerato razzista certe regole però sono state create dai creativi milanesi da molti creativi milanesi da alcuni creativi milanesi sono convinti che ci sia soltanto quella modalità per relazionarsi al social network non è così la verità non ce l'ha in tasca nessuno sono settori in costante espansione in costante cambiamento e nessuno è veramente un vate per queste cose quello che noi abbiamo cercato di portare nella pagina facebook di Excel è stata la nostra passione e la nostra umanità cioè il fatto che con tutti i difetti con tutte le perché ovviamente fare interazione vuol dire anche tessere, iniziare dialoghi che possono durare per ore, ore, ore anche a volte giorni polemiche flame come si chiamano in gergo eccetera ne abbiamo avuti di tutti i tipi continuiamo ad averne e noi rispondiamo cioè una delle regole è don't feed the troll non nutrire i troll noi invece spesso li nutriamo nel senso che anche il troll ovvero quella persona che con scopi negativi si introduce nella tua pagina per cercare di metterla in cattiva luce per cercare di dire che naturalmente XL non capisce nulla della vera musica ma ci siamo noi che siamo della web zintal dei tali e abbiamo la conoscenza reale di quella che è la situazione beh noi a tutte queste persone tendenzialmente ci rapportiamo ci rapportiamo anche in maniera sanguigna perché poi non si vede perché uno debba subire ogni tipo di attacco dicendo grazie per la tua risposta no noi ti mandiamo anche a quel paese come si suol dire se lo meriti e alla fine comunque evidentemente questa cosa viene apprezzata cioè fare delle pagine tutte impostate a quel tipo di netiquette alla fine in realtà crea una distanza e alla fine secondo me non sei neanche credibile insomma detto questo lavorare social network è forse la fatica più improba e la fatica maggiore di questi tempi anche lì c'è una sottovalutazione fortissima di questo in realtà la figura del cosiddetto social manager e anche qui uso un termine che non mi piace per niente perché comunque tendenzialmente l'idea di manager già insomma in qualche modo non è un'idea che mi piace quando si parla di qualcosa di creativo e io credo che il giornalismo sia un qualcosa di creativo sicuramente giornalismo essere su facebook e lavorare a una pagina facebook ma non è giornalismo in senso tradizionale sicuramente è estremamente impegnativo perché richiede conoscenze ad ampio raggio perché quello che si chiede a una pagina come quella di XL è il fatto di avere competenza su tutti gli argomenti che tratta naturalmente è una cosa che ecco ci vuole moltissima umiltà questa è la cosa anche importante da sottolineare i giornalisti spesso fanno tutto per la firma devo dire che anche da noi agli inizi nelle riunioni di redazioni alcuni dicevano ma io voglio firmare perché la mia insomma non è così alcuni addirittura proponevano agli inizi e l'hanno anche fatto ai primi tempi di XL firmato firmavano dei post con la loro no l'umiltà è che la nostra identità personale sulla pagina di Facebook scompare e diventa un'identità collettiva quindi alla pagina Facebook lavorano diversi redattori e collaboratori del giornale naturalmente in alcuni casi vengo chiamato anch'io a rispondere ma siamo tutti Repubblica XL questo è naturalmente certo proprio Michele un inciso a proposito dell'umiltà che diceva Luca in questo momento io infatti lo volevo dire dopo ma mi aggancio a questa cosa l'ho visto lavorare sul campo cioè nel senso che siamo stati fianco a fianco alla Notte della Taranta credo due anni fa e anche al Medimex nella prima edizione e devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che il direttore di XL quindi non un collaboratore un redattore il direttore di XL ha perfettamente capito come si lavora oggi nell'era dei social network e nell'era come dire della rete cotta e mangiata ecco Luca era sotto il palco con il cellulare con la macchina fotografica con il computer dietro il palco a aggiornare in continuazione il sito e la pagina Facebook ecco credo quando lui diceva di umiltà al di là poi del fatto delle firme e lì non è che risultava che c'era Luca Valtorta a fare questa cosa però mi è piaciuto molto questo approccio che è un approccio credo che anche da un punto di vista del giornalismo musicale sia nuovo perché poi si ricollega la cosa che lui diceva cioè del fatto di non accontentarsi di stare chiuso nella propria camera ad ascoltare i dischi tanto ormai non servono neanche più i dischi fisici che ti mandano ma basta Deezer o Spotify oppure insomma scaricare in qualche modo ma di continuare ad andare ai concerti a continuare a parlare con i musicisti ecco questa è una cosa che volevo sottolineare che vi assicuro Luca Valtorta direttore di XL continua a fare ma noi guarda facciamo tutto da questo punto di vista nel senso che partecipando alle appunto agli eventi siamo partner storici per esempio di Italia Wave ma cito un festival potrei citare anche appunto quelli di comics eccetera una delle attività che facciamo per esempio a Italia Wave è quella di noi portiamo i nostri disegnatori che personalizzano le copie del giornale in modo tale che XL diventa un oggetto unico e ovviamente questa è una cosa che ai lettori piace molto regaliamo le vecchie copie diamo a lettori vecchi e nuovi qualcosa di unico che tendenzialmente porta il lettore o il non ancora lettore a fidelizzarsi rispetto a questa cosa cosa succede in queste situazioni che in dieci anni non funziona mai la macchina e quindi tutte le volte siamo costretti a caricarci delle copie a mano di fatto facciamo tutto facciamo i facchini le portiamo bancali e bancali dal luogo in cui vengono consegnati al luogo dell'allestimento le distribuiamo all'uscita facendogli strilloni di fatto ma del resto siamo una piccola realtà cioè ma chi se ne frega di queste cose cioè veramente tra l'altro è anche bellissimo veramente e dovrebbero farlo tutti i direttori l'attività dello strillonaggio cioè prendi e vai a dare il tuo giornale in mano alle persone perché è interessante perché vedi chi lo prende chi non lo prende magari c'è quello che dice interessante inizi anche a parlarci un altro insomma è una delle tante cose che costituiscono un feedback importante per chi poi il giornale lo fa materialmente per cui secondo me è veramente fondamentale per questo mi piace appunto l'idea del giornale di carta al centro ma poi l'incontro in carne ed ossa con i tuoi lettori ai festival alle fiere del fumetto agli eventi come il future film festival gli incontri come questo e poi naturalmente la community online in cui ovviamente si lavora si risponde e sapete bene ormai com'è il mondo di internet bisogna stare attentissimi basta un apostrofo sbagliato un accento sbagliato e proprio perché siamo un'entità naturalmente non è che tutti i collaboratori possono essere allo stesso livello e magari hanno anche competenze diverse per cui magari su una determinata cosa uno ha minor competenza non so magari uno sa più di cinema e l'altro sa più di musica magari in quel giorno il suo turno scoppia una cosa sulla musica e lui è un appassionato quindi avvisa gli appassionati di musica e subentra l'altra identità che risponde su quel versante lì però è ovvio che a volte ci possono essere degli errori è più che umano però non viene perdonato ormai niente oppure a volte ecco le cose peggiori sono le basse insinuazioni a volte veramente ci sono delle cose che ci intristiscono queste robe appunto ormai molto da grillismo per cui tutti prendono soldi a pioggia da altri chissà chi contributi dell'editoria tutte cose che non si capisce bene da dove vengono perché contribuiti all'editoria ci sono ma quelli che recepiscono i grandi quotidiani sono contributi in forma diretta che in sostanza costituiscono un rimborso carta e un rimborso per le chiamate telefoniche che neanche esiste più per cui c'è una divulgazione grillina di cose completamente deliranti e lo dico portando comunque simpatia per alcune delle battaglie che i grillini stanno facendo perché ci mancherebbe però alcune cose sono veramente cioè fanno cadere le braccia perché sono un mix di cattivissima informazione ripetuta in maniera decerebrata citando tabelle che non riportano fonti delle fonti in realtà ci sono sui finanziamenti si possono andare a vedere anzi adesso pubblicheremo anche la pagina in cui si trovano e sono i finanziamenti pubblici alle cooperative editoriali ai giornali di partito su cui effettivamente c'è stato un mal costume diffuso in questi anni verdini in questi giorni sulla graticola per questa cosa qua sono stati fatti giornali ignobili che non leggeva nessuno sfruttando queste leggi che nascono in realtà per motivi nobili però ecco per piacere veramente che nessuno ci venga a dire adesso andate tutti a casa anche questa cosa poi di augurarsi la chiusura dei giornali adesso vi togliamo i finanziamenti tutti a casa è una cosa veramente di cattivissimo gusto perché con le battaglie che in questi anni ha fatto Repubblica quando non c'era nessuno quasi a farli su certi temi non lo so è molto molto ingeneroso in Italia ci si dimentica molto presto delle cose che vengono fatte insomma per cui lascio ho finito volevo a proposito di quello che stavi dicendo siccome parlavi di community Puglia Sounds ha strutturato buona parte della propria attività proprio credo poi volevo sentire anche l'opinione di Antonio Princigalli nel tentare poi di rimarginare in maniera forte attraverso tutta una serie di attività la community che esiste in Puglia la community che esiste fuori dalla Puglia con il tessuto poi artistico creativo in particolare musicale pugliese e ha utilizzato appunto anche i media e ha stretto anche una serie di collaborazioni molto proficue proprio con XL quindi volevo proprio chiedere ad Antonio Princigalli se ci poteva un po' illustrare la modalità con cui Puglia Sounds credo in maniera anche molto forte e pregnante ha utilizzato lo strumento dei media tradizionali e anche nuovi per appunto creare un collante con la community beh è ovvio che è imprescindibile fare questo come mestiere diciamo così senza alcune relazioni forti con i media e con XL come dire la collaborazione è stata immediatamente come dire proficua abbiamo cominciato nel 2010 se non ricordo male Luca perché c'era venuta in mente che avviando il primo sistema delle musiche regionali ci sembrava necessario come dire per la prima volta mettere l'intero patrimonio artistico degli ultimi cinque anni diciamo così all'interno di una grande cornice questa grande cornice non poteva che essere un disco e questo disco non poteva che essere distribuito con l'unica rivista musicale italiana che nel corso di questi ultimi anni avesse proseguito alcuni ragionamenti perché sembrerà banale adesso diciamo così ma tre anni fa mettere sullo stesso disco artisti come i grandi Negramaro come Caparezza come le cose di Pizzic come le cose di Jazz come le cose del nuovo cantautorato eccetera eccetera e dare quindi fare una una fotografia il più nitido come dire possibile su quello che questa terra negli ultimi anni comunque aveva come dire in qualche modo proposto ci sembrava il primo punto di partenza abbiamo avuto un enorme successo con quella compilation che ne siano state distribuite 35.000 e questo è stato come dire un passaggio importante per noi anche fatto questo abbiamo continuato e abbiamo scelto però come di fatto l'indice diciamo così abbiamo deciso negli anni successivi di continuare usando lo strumento del disco come uno strumento di comunicazione per le giovani formazioni per cui nel 2011 e nel 2012 abbiamo continuato così mettendo su due dischi complessivamente credo 35 gruppi che avevano che avessero prodotto un cd perlomeno nell'anno precedente e quindi ovviamente era come dire un elemento di promozione non solo dell'intero sistema regionale ma soprattutto di ciascuno di questi 35 lavori ma come dire questo secondo me è l'apice della collaborazione nel senso che la parte più evidente la parte che io ritengo essere più interessante è che in un paese come questo nel quale negli ultimi anni come dire l'indice di mediocrità è assolutamente sanito e l'indice di non curiosità è assolutamente sanito e trovare una sponda culturale diciamo così come quella che XL è stato nel corso degli ultimi anni trovo che sia come dire una boccata di ossigeno vera nel senso che abbiamo pensato che in questi anni fosse fondamentale mettere insieme su progetti diversi e con modalità completamente diverse i soggetti che continuavano a mantenere una come dire dei parametri che dessero in qualche modo speranza a questo paese e ovvio parlo del settore musicale insomma però questo si può traslare facilmente come dire per ogni singola cosa per cui abbiamo scelto subito di fare un percorso comune il più il più complesso possibile abbiamo deciso che il giornale fosse uno dei due partner mediatici per il Medimex abbiamo scelto di pensare insieme come poter dare più visibilità possibile alle nuove produzioni pugliesi e quindi facciamo opera di scambio di invio sui nuovi dischi che escono sulle nuove informazioni sui tour in modo tale che nei limiti degli spazi possibili il giornale potesse dare una visione un po' più organica di quello che sta accadendo qui e devo dire che questo come dire soprattutto partendo da una modalità che prima Luca stava comunque dicendo che è quella non solamente perché facciamo una compilation allora con Excel abbiamo un particolare rapporto tenete conto che quello che noi paghiamo della compilation è la stampa pura cioè come dire la stampa fisica tutto il resto non ha costo come per noi zero cosa unica diciamo così e quindi tutto quello che è nato nel corso di questi tre anni è stato realmente frutto come dire di un pensiero comune cioè quello di far qualcosa di organico perché l'altro elemento che ha caratterizzato l'informazione insomma in tutto qui negli ultimi anni è la caratteristica che non si riesca più a pensare in modo organico non si riesca più ad avere degli obiettivi ad avere una visione di medio termine perlomeno che vada comunque raggiunta tutto accade in modo sfilacciato o come dire occasionale non ha una come progettazione ampia invece nel nostro piccolo io penso che ci siano riusciti Luca e credo comunque che alcune pratiche che abbiamo sperimentato siano state riprese o siano state comunque poi per certi versi ampliate come modificate in altre situazioni quindi non lo so se questo per ora può essere sufficiente io aggiungo solo una cosa che intanto questo rapporto con Puglia Sounds ci ha permesso di conoscere in parte naturalmente le conoscevamo perché ovviamente vi citavo prima Caparezza Negra Amaro le eccellenze musicali che già esistevano inevitabilmente le conoscevamo però attraverso Puglia Sounds e attraverso il lavoro di selezione perché per farvi capire come appunto abbiamo lavorato le compilation Puglia Sounds ci forniva una rosa di titoli di cose da ascoltare dopodiché naturalmente noi andavamo a selezionare le cose che ritenevamo più interessanti e anche da un lato più vicini al target della rivista poi però abbiamo anche voluto proporre ai nostri lettori che sono lettori tendenzialmente rock anche dei lavori invece di contaminazione dove questi risultassero più interessanti quindi magari lavori in cui o le cose si mescolavano appunto tradizioni come quella della pizzica e della taranta oppure situazioni in cui le cose fossero più pure possibili e anche in queste compilation lavoravamo nello stesso modo in cui vi raccontavo come abbiamo lavorato a quest'altro lavoro cioè cercando sempre di costruire mettendo i brani in un certo tipo di ordine un vero e proprio percorso musicale mentale e culturale e devo dire che ci ha fatto molto piacere che come vi dicevo prima appunto il fatto di essere in un social network ti sottopone alle critiche più dure e a volte ingenerose ma a volte invece hai anche delle gratificazioni e devo dire che tutte e tre le compilation che abbiamo realizzato sono state molto 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 apprezzate dai lettori cosa che ci fa davvero piacere perché nell'ultima in particolar modo abbiamo proposto delle cose anche molto più difficili più sperimentali cercando appunto di dare anche un'immagine che fosse lontana dal mondo della Taranta con cui spesso oggi anche ingenerosamente viene ma anche perché ci sono delle forme poi di degenerazione di queste perché un conto è la notte e la Taranta un conto sono tutta una serie di cose che ormai gli uffici del turismo propinano come Taranta insomma quindi prego siccome sono arrivate delle domande da parte della platea ce n'è una in particolare che volevo rivolgere sia a Valtorta che a Princi Galli e chiaramente poi se Pierpaolo Lala vuole intervenire mi fa molto piacere Angela Lomoro ha scritto si scrive molto di cultura ma si legge poco e il problema della sovrapproduzione secondo me può essere valido anche per la musica ovviamente si produce tanto e si ascolta forse con un'attenzione un po' inferiore rispetto a qualche anno fa quindi è un problema di comunicazione o di disinteresse questo sia nell'aspetto del giornalismo che nell'aspetto poi della musica io dico la mia sul fatto che si produce troppo faccio un piccolissimo esempio moltissimi anni fa quando venne fuori la notizia che i Litfiba o i CGCP avevano fatto un disco il disco era una grandissima notizia il primo disco accidenti sono arrivati a tal punto dopo tanti anni di live eccetera eccetera finalmente fanno un disco ora ovviamente chiunque può fare un disco con mille euro o meno diciamo così per cui c'è un'iperproduzione impressionante è ovvio che da un lato tutto questo il mercato non può mai reggerlo dai dati che io ho credo che il 96 o il 97 per cento dei dischi che vengono prodotti in questo paese non vendono più di 400 copie il che significa farne strumenti poco più che condominiali diciamo così ed è vero anche che c'è tanta schifezza in giro cioè è ovvio che come dire l'innovazione della tecnologia ha portato a mettere fuori qualsiasi cosa è vero anche che la rete ha come dire prodotto strumenti tali per cui non c'è bisogno di passare per una major per come farsi conoscere è vero soprattutto vero però che la quantità di roba che viene prodotta è mostruosamente inutile vale per la musica come vale per i libri come vale per qualsiasi come dire prodotto ecco diciamo così che riempie le nostre case che come dire comunque riempie i nostri negozi quindi questo è il problema primario io credo che bisognerebbe fare come dire un sedio lavoro sul passaggio intermedio cioè offrire probabilmente delle possibilità per far capire a chi vuole cominciare a far musica cioè come dire confrontarsi prima e far scegliere prima se è il caso o no di produrre un disco oppure magari attendere oppure continuare a farlo come dire per hobby oppure scegliere se cominciare a farlo per professione decidere di fare del proprio talento una professione trovo che sia la cosa più bella del mondo diciamo avere la consapevolezza del proprio talento e avere la consapevolezza che quel talento possa realmente diventare quello è un passaggio decisamente più complesso quindi in un'epoca come dire dove le asticelle si abbassano in un'epoca dove chiunque vuol diventare qualcosa che non potrà mai essere o chiunque vuol diventare come dire quello che vede sui manifesti o in televisione è ovvio vale per le puppy girl ma vale per i gruppi o vale per quelli che vogliono diventare calciatori per forza o altro Luca sul fatto che si produce molto si scrive molto di cultura ma si legge poco ma sì siamo in una società di iper stimoli cioè veramente a volte sembra proprio di naufragare in questa cosa beh il ruolo di un giornale è proprio questo il ruolo di XL nello specifico è quello di cercare di dare a chi ci legge soltanto le cose che secondo noi hanno un valore certo poi ci sono molte cose moltissime cose che restano fuori ma appunto e tutti quelli che restano fuori si lamentano e dicono ah non hai riconosciuto il nostro talento no l'ho trovato in alcuni non l'ho trovato in altri quindi però questo è il ruolo della critica questo è il ruolo della stampa la chiamo stampa che sia di carta che sia sull'iPad che sia sul web chi fa professionalmente un certo tipo di lavoro e quindi ha degli strumenti in più per capire che cosa cioè non è una questione di superbia no cioè è semplicemente che se tu dedichi tutta la vita a ascoltare musica probabilmente alla fine sarai in grado di vagliare meglio un certo tipo di disco dopodiché ti arriva quello che ha ascoltato due cose in vita sua ti dice tu non capisci niente Vasco Rossi ed io va bene cioè però tu hai ascoltato due dischi cioè non bisogna avere anche la capacità di oggi veramente c'è l'illusoria sensazione che un parere valga un altro sì nella democrazia è vero però allora poi se si pensa questo si azzerano completamente le competenze no le competenze invece esistono dopodiché naturalmente un conto sono i fatti oggettivi un conto sono fattori più soggettivi come l'interpretazione di un disco ci si può scontrare anche tra critici si può pensare che una cosa abbia una qualità oppure no però la cosa fondamentale e onesta sono naturalmente le argomentazioni cioè se io faccio una critica dopo aver ascoltato un disco venti volte conosco tutta la discografia del personaggio in oggetto ci ho riflettuto sopra eccetera porterò comunque delle argomentazioni importanti che pur non avendo un criterio di oggettività assoluta sono qualcosa di cui chi sostiene il contrario cioè che magari quell'autore non abbia qualità deve comunque tener conto e quindi deve dare delle motivazioni altrettanto forti o più forti per dire che invece quel disco quelle qualità non ce le ha dopodiché questo poi è anche il bello però è chiaro che se la cosa come spesso succede su social network è ah questo disco fa cagare allora non ci siamo naturalmente non è un parere che può avere un valore un parere di questo tipo c'era Pierpaolo sì rispondo perché in realtà me l'ero segnato e avevo anche risposto via twitter tra l'altro ad Angela che non so se è ancora in sala comunque secondo me il problema vero è che da un punto faccio il populista da un punto di vista delle politiche culturali questo paese è stato massacrato cioè il discorso è che se noi andiamo ad arredrare se viene tagliato il fondo unico per lo spettacolo se sul cinema diciamo sono stati fatti tagli pazzeschi se non viene invogliata la lettura anche anzi un programma tipo quello Ottobre Piovono Libri se non sbaglio che era organizzato dal ministero è stato completamente cassato se non viene fatta una politica di appunto sostegno alla lettura nelle scuole se la stessa scuola pubblica viene continuamente flagellata sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista dei contenuti se l'università è stata completamente svuotata di quelle che erano le cose positive prima della riforma scellerata del 3 più 2 se metti insieme tutte queste cose arriviamo alla domanda che fa giustamente Angela cioè in Italia si pubblicano 6.000 libri l'anno se non sbaglio qualcosa del genere che sono tantissimi cioè significa 500 al mese non so quanti dischi vengano prodotti ma più o meno siamo su quelle cifre se non ancora di più e il problema è chi legge chi ci dice che bisogna leggere chi ci dice che bisogna andare ad ascoltare i concerti le polemiche tra l'altro usciamo da una campagna elettorale molto difficile in cui si è parlato di tutto tranne che di cultura cioè il tema della cultura in campagna elettorale non è stato toccato praticamente da nessuno praticamente da nessuno quasi da nessuno e infatti a questo voglio arrivare cioè il discorso è che invece investire fondi pubblici fondi pubblici per sostenere il compatto che non è soltanto il divertimento perché poi la cultura viene vista come il divertimento tu dici che fa il musicista e poi qual è il tuo lavoro no quello è un lavoro allora come dire entrare in quest'ottica e andare anche a vedere dalle dichiarazioni di chi ci governa dei politici anche degli assessori locali eccetera che ogni volta che si parla di cultura si dice vabbè tagliamo tanto non importa niente ci sono tante persone che lavorano in questo settore anche lo scrittore per dire potrebbe aspirare a fare questo lavoro come succede per dire in Francia dove addirittura ti pagano per fermarti per scrivere la ricerca è stata completamente completamente ammazzata io credo che bisogna ripartire da lì i dati tanto ce lo dicono chiaro siamo all'ultimo posto per alcune cose al penultimo per altre bisogna ripartire da un sostegno serio da un sostegno serio pubblico nei confronti della cultura perché la cultura da solo soltanto con il pubblico non ce la fa perché è impossibile bisogna continuare anzi bisogna cominciare devo dire riprendere a fare un'azione che sia di sostegno di come dire di promozione del pubblico per spiegare proprio ai ragazzi che bisogna andare a teatro che bisogna leggere perché se no poi secondo me ritorniamo al punto diciamo di tanti anni fa in cui c'è un gruppo di persone le nicchie che diceva prima Luca un gruppo di persone che fa le cose che legge che compra i libri che va a determinati concerti ed un gruppo di persone che è la maggior parte degli italiani che non fa nulla di tutto questo e non si sente neanche in colpa perché non c'è nessuno che gli dice guarda che stai sbagliando e allora a proposito di questo argomento c'erano due domande che potevo riassumere una di Bianca Chiriatti e l'altra di Loblog la prima dice il pubblico di Masta non esiste perché mai esistono le nicchie anche i fan di Lady Gaga o Justin BBR possono essere considerati nicchia e poi l'altro dice l'atteggiamento hipster può essere il miglior metodo per scoprire le nicchie? Rispondo io che ho citato gli hipster almeno a questa domanda qua ma l'atteggiamento hipster è un po' come l'atteggiamento grillino che dicevo prima nel senso che è molto promettente perché in teoria è un atteggiamento di curiosità e di ricerca che però poi diventa deludente e sterile quando ritiene appunto che come spiegavo prima dopo che un gruppo esce dalla conoscenza di quel nucleo di dieci persone in Italia duecento in America mille nel mondo no diventa così diventando di massa automaticamente perde tutto l'allure questo tipo di atteggiamento è un atteggiamento superficiale sbagliato e che non permette di crescere quindi da questo punto di vista mi dispiace tra l'altro è strano veramente come ci sono delle analogie no perché noi su Excel abbiamo dedicato dei servizi agli hipster e abbiamo fatto anche un post molto innocente da cui si è scatenato un putiferio che era una cosa semplicemente chi sono gli hipster cioè centinaia di commenti insultanti eccetera come ormai ogni volta che cioè se vogliamo avere appunto interazioni scambi eccetera sappiamo che basta dire grillo è pazzo punto di domanda e avrai centinaia di persone che arrivano a dirti venduti e basta tutti a casa ancora pochi giorni vi tagliamo i finanziamenti finalmente vi chiuderemo eccetera eccetera e così via poi per fortuna intervengono magari anche altri e inizia un dialogo spesso purtroppo più che dialogo uno scontro anche se devo dire la nostra pagina viene tenuta a bada appunto cioè non vengono ammessi turpiloqui che così riguardano minacce di Morgan cioè quando ci sono ovviamente questi commenti li censuriamo e se persistono ovviamente giustamente arriviamo a bannare la persona che li mette in opera con continuità d'altra parte cos'era? no era sempre sui lipster se possono rappresentare un metodo per scoprire le nicchie ma diciamo penso ma appunto poi c'è un fastidio da parte degli hipster quando un giornale come il nostro che appunto è strano perché arriva un pubblico di massa è sicuramente il più diffuso il più venduto in Italia però al tempo stesso si occupa cose di nicchia per cui ad alcuni dà fastidio che lo facciamo vorrebbero essere soltanto loro ad occuparsene invece no la divulgazione è importante quindi questo atteggiamento ribadisco cioè non è che spesso queste cose qua del circuito hipster sono cose a noi sconosciute cioè adesso il mondo hipster faccio un piccolo esempio ha scoperto gli Swans il nuovo disco viene considerato da Pitchfork un capolavoro vabbè ma gli Swans li intervistavamo vent'anni fa cioè li conosciamo a volte veramente è quasi anche imbarazzante no? perché l'hipster giovane viene lì ti dice gli Swans come se tu magari li hai intervistati dieci volte nel corso della tua carriera hai tutta la discografia da tempo eccetera però tu non li conoscerai quindi ecco invece c'è una domanda che vorrei portare l'attenzione di Antonio Princigalli siccome l'hanno fatta più persone su Twitter che cosa pensi dei talent show se possono essere utili per dal punto di vista degli artisti emergenti mi ricollego a quello che stavo dicendo prima se il talent show è dentro un sistema sano c'ha un senso diciamo così ma se è dentro un sistema non sano come quello che c'è adesso io trovo che siano negativi quello che dicevo prima cioè che l'abitudine è stata quella di azzerare i percorsi fisiologici assolutamente naturali è ovvio che lo sviluppo di un artista debba comunque avere il talent ha come dire ha preso un vuoto che c'era ed è diventato quello lì primario quindi da questo punto di vista dico che sono negativi ribadisco però che in un contesto sano diciamo così possono essere una cosa come un'altra ma tra le altre cose se puoi vedere per paradosso tra l'altro adesso i talent sono diventati più uno strumento per rendere noti i giudici o altri piuttosto che con gli stessi cantanti e basta vedere per l'ultimo Sanremo tra le altre cose dove Elio benché è geniale eccetera eccetera ma viene da due anni di come dire talent come giudice anche se assolutamente bizzarro e se fate la lista di tutti quelli che sono venuti fuori dai talent ma al di là di qualcosa che più o meno si è aggrappato con i denti eccetera eccetera ma tutto il resto è andato per cui è una cosa del mondo come tante altre ribadisco la cosa che non condivido e che siano diventati l'apice di un sistema musicale che non funziona anche perché sapete probabilmente che così come è già successo in alcune radio che sta continuando sempre di più dove alcuni network hanno costituito delle proprie società di edizioni e altro per cui sulle proprie radie passano fondamentalmente quello che loro producono cioè una cosa che è folle diciamo sui talent c'è la stessa logica il talent su Sky è chiuso con Sony per cui tutti gli artisti prima di mettere i piedi su quel palcoscenico che devono firmare è un contratto con Sony e quello che stanno facendo adesso su Ray 2 è invece fatto con l'Universal per cui dato che le grandi casi geografiche sono due oramai loro voglio dire è una cosa folle bizzarra che però se la si vede dall'alto è perfettamente incastonata in questo paese altrettanto folle che non esista una legge sulla musica seria che non esista anche banalmente come in Francia notorialmente paese avanzato rispetto a tutto questo la quota di trasmissione non della musica francese non della musica francese ma della musica prodotta in Francia c'è una certa differenza per cui vale da tutta la musica delle ex colonie dalle Antille all'Africa al Maghreb all'Ase eccetera eccetera o qualunque tipo di musica che sia prodotta in Francia nel nostro piccolo come Puglia Sounds quello che abbiamo fatto non è anche perché ce lo vieterebbe comunque poi la stessa Comitiva Europea non sostenere la musica dei pugliesi ragionalmente assolutamente leghista dove dici no solamente quelli con sangue puro pugliese no non ce ne frega niente è tutto quello che è prodotto in Puglia allora quindi il singolo artista che vive qui e viene da un altro paese può tranquillamente fare un disco o un festival se sceglie che viene dalla Corea e sceglie di fare una sua produzione qui può comunque farla la logica quella deve essere mantenendo considerando che è un mondo globalizzato così come si fa per le quote latte mi dite perché non si deve fare per la musica mantenendo una quota perché sei più debole perché non sei la cultura dominante mantenere una quota che preservi la produzione locale come il caciocavallo dopo secondo me va preservato pure quel patrimonio culturale che qui abbiamo con i pregi e con i limiti che ha ma è da un lato un pezzo della nostra vita dall'altro un pezzo della nostra economia e dall'altro è un pezzo del nostro patrimonio culturale grande o piccolo lucente o scuro che sia in questo periodo però lo è aggiungo solo una cosa velocissimamente che rispetto ai talent show una cosa che abbiamo affrontato proprio a Medimex in un convegno realizzato due anni fa con Franco Battiato Daniele Silvestri Caparezza Capovilla Colliva e esatto insomma la cosa interessante che è venuta fuori da questa da questo incontro forse la più interessante è stato uno sconto a un certo punto tra Franco Battiato e Luca De Gennaro in quanto responsabile di MTV perché quello che io in qualche modo chiedevo è che rispetto ai talent ci fosse invece in Italia qualcuno che si prendesse carico di fare una trasmissione di musica di qualità una trasmissione di musica intelligente dove le band vere suonano dal vivo una trasmissione che potrebbe diventare veramente un fiore all'occhiello no soprattutto la televisione italiana ha bisogno di cose di qualità in un paese normale dovrebbe proporre cose di qualità non badando solamente all'audience anche perché l'audience te lo costruisce a poco a poco magari l'inizio non c'è su una cosa del genere però a poco a poco appunto abitui la gente crei ricrei un immaginario dove il personaggio di riferimento è uno che va lì e suona piuttosto di un talent costruito in laboratorio dove appunto vengono valorizzati più i giudici o comunque dove c'è un certo tipo di sceneggiatura eccetera eccetera tra l'altro una trasmissione del genere con ospiti internazionali insomma potrebbe valere moltissimo potrebbe fare moltissimo per la scena musicale italiana perché comunque una trasmissione del genere ci porti i radiohead ovviamente se in quel contesto in quello stesso contesto suonano gli after hours magari avviene addirittura la cosa straordinaria di un duetto di un incontro tra queste realtà e gli stranieri spesso sono disponibili i stessi after hours sapete suonano con gli afghan wigs spesso e volentieri negli Stati Uniti e lo stesso cantante è stato ospite di Manuel in Italia in diversi concerti beh una trasmissione di questo tipo potrebbe veramente costituire qualcosa di molto importante per la scena musicale italiana ma anche per la cultura in generale insomma allora noi avremmo tempo solo per un'ultima domanda e dato che c'è qualcuno dal vivo per una volta diamo vuoi venire qui? no se vi spiegare qui vorrei fare una domanda le fatture che ci sono un'inizio di una legge altamente musicale che doveva essere degli anni avanti alberto nel senso è che in realtà ha pensato qualcosa che è importante per non sapere di una scelta di contenuti vuole capire perché io non sono solo su questo ma però vedo in realtà un esempio cambiamento sulle scelte politiche economiche culturali della stessa repubblica quindi come mai adesante che aveva una certa importanza in ambito italiano ha affatto dei centri di un'unica ma purtroppo non c'è qui Luca comunque posso tentare innanzitutto come raccontavo prima è morto il videoclip ed è un peccato nel senso che ormai ci sono soltanto le megaproduzioni o le produzioni super casalinghe anche qui diffuse tutti fanno un videoclip in realtà però al tempo stesso anche lì questa proliferazione immensa alla fine non è più così tanto una fucina anche perché appunto prima i soldi delle case discografiche anche di quelle indipendenti potevano permettere a un aspirante regista come raccontavo prima di farsi le ossa in questo campo andando poi a lavorare magari in altri settori riuscendo magari a diventare addirittura regista di film in qualche caso c'è da questo punto di vista anche se poi meno fortunato all'estero ci sono casi invece importantissimi di gente che partita dal videoclip e vabbè in questi giorni questo wood kid non così famoso ma ieri sera l'auditorium di Roma ha fatto il tutto esaurito che nasce come autore di videoclip e la formula di MTV quindi si è andata esaurendo secondo me è mancato un po' il coraggio anche in Italia appunto io anche allora come vi dicevo spesso capitava di andare a pranzare assieme e io spesso in qualche modo li accusavo del fatto che soprattutto sull'Italia non avessero una posizione sufficientemente forte nel senso che non so vabbè è vero è una rete estera per cui comunque c'è inevitabilmente una forma di esterofilia che però era anche legata a dei canoni estetici che dovevano essere rispettati appunto nel videoclip quindi questo poteva anche penalizzare magari una bella canzone però portata con un videoclip brutto escludeva automaticamente dal circuito però anche lì a parte brand new a parte alcune trasmissioni che comunque sono state importanti che hanno un po' divulgato è mancato il coraggio anche in quell'occasione di fare una trasmissione più di peso più importante legata alla divulgazione della musica di qualità in Italia la trasmissione di punta era TRL dove c'erano le megastar le popstar le team band costruite in laboratorio invece quello che dicevamo combattiato era proprio l'idea di fare una trasmissione in cui appunto anche i big in qualche modo italiani si prestassero a cercare di divulgare questo verbo della qualità le difficoltà per questo sono tante perché poi anche il nostro collaboratore Marco Lodoli bravissimo scrittore oltre che giornalista per XL diceva anche di questa ingenerosità dei grandi artisti italiani cioè nessuno si spende per i propri figli anzi tenta di divorarli e questo in effetti può anche essere un tema uno dei motivi per cui in Italia siamo litigiosi su tutto e quindi anche nella musica non si crea coalizione ma appunto si crea lotta tra i vari però ecco il modello di MTV è infelicemente tramontato un po' per questo motivo un po' perché poi la scelta ulteriore è stata quella di andare anche lì a riproporre produzioni americane sottotitolate per risparmiare oppure trasmissioni italiane vabbè poi c'è la pubblicità una trasmissione televisiva delle spese pazzesche per cui ovviamente adesso gli unici programmi che fanno sono programmi che hanno sponsorizzazioni dappertutto in Italia l'unica scena che ha sponsorizzazioni attualmente quella è il pop quindi c'è un abbondare di pop con trasmissioni come quella dedicata ai club dog che io trovo personalmente totalmente diseducative nel senso che noi sui club dog abbiamo fatto una battaglia ma non per il club dog ma per quello che rappresentano e non siamo dei bacchettoni l'abbiamo voluta fare questa battaglia proprio usando le stesse armi cioè ai tempi mandammo Luca militantà di assalti frontali quindi uno dei padri della vecchia scuola dell'hip hop a intervistare il club dog l'intervista poi si intitolò credono di essere dei ribelli sono solo degli schiavi ovviamente da quel momento non abbiamo più rapporti con il club dog che ci hanno infatti accusato in diverse situazioni nel libro che hanno scritto le femministe di XL perché noi ovviamente diverse volte abbiamo scritto contro il modo che un certo tipo di pop e in particolar modo quello proposto da loro tratta le donne ma anche la mentalità appunto cocaina sesso consumo cioè questo tipo di cose non ci piacciono loro ne sono dei divulgatori anche inconsapevoli perché appunto sono convinti di essere dei ribelli ma non lo sono sono schiavi di tutta una serie di cose che purtroppo oggi parlavamo di questa necessità di riconquistare un immaginario culturale che è stato devastato da anni di berlusconismo per cui l'aspirazione è il club privé cioè entrare nel privé del club non a caso appunto la trasmissione di MTV si intitola così dedicata ai club dog ma cioè io neanche morto voglio dire ci andrei nel club privé cioè è proprio una cosa che è contro tutto quello in cui credo tutto quello che cerchiamo di divulgare attraverso il nostro giornale per cui ecco mi dispiace mi dispiace che appunto MTV faccia queste cose in passato ha fatto cose invece di ben altro spessore ben altra qualità in alcune occasioni in particolar modo ricordo c'è un viaggio nelle realtà italiane fatto da Coppola mi sembra che 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 entrava nelle realtà giovanili lavorative andando a scandagliare ecco in quei casi MTV ha fatto un buon lavoro io adesso non lo so se appunto queste cose non hanno avuto sufficiente audience e quindi non sono state portate avanti per questo motivo e quindi trionfano Jersey Shore o appunto il club privé piuttosto che trasmissioni di edutainment cioè di educazione attraverso l'intrattenimento però sarebbe molto importante che MTV riconsiderasse il suo ruolo anche da questo punto di vista insomma bene allora io abbiamo concluso il tempo mi dispiace Michela ma veramente siamo proprio in chiusura se volevi dire una cosa al volo sì sì Grazie. Rispondo io, sarebbe bello che questo avvenisse, aspettiamo, non vediamo l'ora che succeda, però non succede, evidentemente il momento storico non è in grado al momento di produrre questo tipo di cosa, però veramente è nelle mani vostre, cioè delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, riuscire a fare questa cosa, ovviamente noi possiamo cercare di creare quell'humus che magari poi dà la possibilità a una band del genere di sbocciare, quello che facciamo appunto con il nostro giornale è cercare di continuare a lanciare impulsi su questo versante, cercare di dare valore alle cose che secondo noi ce l'hanno, quindi la cultura, un certo tipo di musica, un certo tipo di cinema, eccetera, eccetera. Da lì, da questo tipo di mondo, da questo tipo di riferimenti, magari domani finalmente riuscirà a arrivare una band che ci sorprenderà in questo senso. Bene, grazie, io vi do appuntamento alle 19 perché ci sono anche domande che non abbiamo potuto fare per una questione di tempo, alle 19 nel negozio di dischi New Record, chiaramente ringrazio per Paolo Lala, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, Antonio Princigalli, Antonio Princigalli di Puglia Sound e naturalmente Luca Valtorta di XL, grazie, a dopo. Grazie. Pronto. Guarda, è finito esattamente... Grazie.